Buone notizie per quanto riguarda il problema della posidonia spiaggiata dall'assessore comunale Roberto Mutalipassi di Agropoli che ieri pomeriggio in occasione dei festeggiamenti in onore del santo patrono di Rutino in rappresentanza del comune di Agropoli si è confrontato con l'onorevole Franco Piccarone in merito al finanziamento regionale per rimuovere la posidonia spiaggiata dagli arenili del territorio ho avuto rassicurazioni ha detto l'assessore che in questa settimana il consiglio regionale della Campania discuterà l'approvazione di tale finanziamento con ulteriore impegno che verrà fatto ogni sforzo affinché il Parlamento approvi definitivamente l'emendamento al decreto legge che modifica la classificazione della posidonia spiaggiata da rifiuto speciale al rifiuto naturale poi a concluso ho convenuto con l'onorevole Piccarone che tale provvedimento è sicuramente importante per il futuro ma che adesso per Agropoli è fondamentale ed è indifferibile ottenere il finanziamento promesso sono fiducioso in tal senso